Contrastare l'euroscetticismo, avvicinare i giovani all'Europa, creare un partenariato istituzionale, alvia la settimana europea a Sulmona dall'11 al 14 marzo. Scambi culturali, conferenze, dibattiti, approfondimenti sui temi che riguardano l'Europa e i giovani, l'euroscetticismo, coinvolgendo la cittadinanza per parlare del futuro dell'Europa e delle politiche di sviluppo a favore delle aree interne e locali. Il Comune di Sulmona si è aggiudicato, in veste di capofila, il progetto che rientra nell'ambito del programma europeo Europa per i cittadini, azione e gemellaggio di città, ricevendo un contributo di 10.800 euro. Il programma è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dal sindaco Anna Maria Casini, insieme a Stefano Calore, coordinatore del progetto e Gabriella Spina, referente del centro Europe Direct Maiella, la sede della Commissione europea che si trova a Sulmona, grazie all'associazione Linae e all'ex presidente del Parco Nazionale della Maiella, Franco Iezzi. L'ufficio unico di progettazione, in corso di definizione, promosso da 12 comuni della Valle Peligna che si sono convenzionati per realizzare questo progetto su fondi europei, creerà quello staff di personale interno degli enti, ma anche di esperti esterni che ci metteranno nelle condizioni di poter poi materialmente redigere dei progetti che alimenteranno, spero, a breve, un percorso virtuoso, quindi acquisizione risorse, realizzazione progetti, mobilità di persone a livello europeo e quindi posizionare Sulmona l'intenso di un contesto attrattivo. Il filo conduttore sarà l'Europa, sarà l'integrazione, sarà l'interculturalità e la multiculturalità. Sarà una settimana all'insegna dell'integrazione, della connessione e speriamo anche di comprendere finalmente che tipo di fenomeno abbiamo di fronte, ossia il fenomeno dell'euroscetticismo dal punto di vista culturale, sociale e politico. L'Europa è ancora lontana ai cittadini. Il nostro lavoro è durissimo, stiamo cercando di portarlo avanti al meglio tramite informazioni che diamo quotidianamente all'interno dei comuni, all'interno delle scuole, all'interno delle università, grazie anche alle emittenti televisive, grazie anche appunto a un'informazione sui social network. La settimana europea si apre lunedì prossimo alle ore 17 nella sala consigliare del comune, si prosegue martedì 12 marzo alle 9 con l'incontro tra studenti nella sala del Cima Pacifico. Mercoledì 13 marzo visita guidata a Campo 78, Bazzia Celestiniana ed Eremo di Santo Onofrio. Giovedì 14 marzo alle 9 conferenza conclusiva alla Bazzia Celestiniana. Il progetto si avvale della fattiva collaborazione dell'Istituto di Istruzione Superiore, Ovidio e Fermi di Sulmona che hanno contribuito in maniera determinante nell'accoglienza della delegazione di Siumperc e nella realizzazione di incontri finalizzati a chiarei dibattiti tra gli studenti in merito alle opportunità provenienti dall'Unione Europea. Grazie a tutti.